Il mio amore per la musica e il mio cantante preferito Leo, il peluche di quando ero piccola L'ultimo libro che ho letto Il mio inseparabile profumo Utile per studio, lavoro ed amicizie Utili per i miei viaggi intorno al mondo Il mio attuale hobby Un ultimo indizio indispensabile per capire la mia attuale professione Ecco, questa sono io Got this level fantasy where we just never stop